Musica Bella a tutti ragazzi, qui Golis, bene ritrovati sul canale Dead Maniac Signori, ci sono qui per portarvi un nuovissimo video su Destiny 2 Già negli scorsi video abbiamo parlato in modo superfluo di Destiny 2 Perché al momento le notizie che ci sono sono superflue ragazzi Quindi non sono neanche notizie ufficiali E allora non possiamo andare nei particolari perché i particolari non ci sono Però ragazzi, se avete visto i video precedenti e se non li avete visti andateli a vedere E poi ritornate su questo C'è una novità Allora, Bungie ha ufficialmente smentito l'immagine che era uscita sulla test build E ha detto che non c'è nessuna test build a riguardo Però, subito dopo le parole di Bungie E ho saltato fuori un altro video che trovate qui di sottofondo In cui ragazzi possiamo vedere di nuovo su Xbox One Un utente, questa volta non è un'immagine, bensì un video In cui un utente si trova a giocare Destiny 2 test build In questo caso non è Marte, Deimos ovvero Ma bensì è Europa storia Quindi ragazzi, questo mi lascia un po' perplesso su cosa stia succedendo Perché 10 minuti prima È un esempio, è 10 10 minuti prima la Bungie mi smentisce la notizia E 5 minuti dopo mi appare fuori un altro video in cui si vede di nuovo test build Ragazzi, non so cosa pensare Due sono le opzioni O la Bungie ci sta nascondendo qualcosa Oppure questa test build O build, chiamatela come volete voi È un'architettura degli utenti di Reddit Quindi ragazzi, io come sempre vi invito a prendere queste notizie con le pinze Così Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto Ragazzi, lasciate un bel like Prima di chiudere, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto nell'ultimo video Quello dove, diciamo, esponevo i miei pensieri sulla community italiana in generale Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Un bel like Un commentino per farci sapere la vostra su Destiny 2 Cosa ne pensate e cosa volete in Destiny 2 Ragazzi, da Golussi è tutto Qui The Maniac Enjoy